Ciao, sono Dario per Alternativa Linux. Ci sono molti programmi open source gratuiti che puoi trovare utili per usare Linux Mint per lavoro o in ufficio. Eccone alcuni che prevedo ogni volta che reinstallo Linux Mint. Nella sua estrema semplicità e con le esigenze che soddisfa, PDF Shuffler è un programma indispensabile. Puoi separare pagine o effettuare fusioni per unire più PDF in un unico file. Oppure riarrangiare e riordinare o assegnare una rotazione a singole pagine di un PDF. Il tutto in pochi istanti e gratuitamente. Quando apri un documento PDF con PDF Arranger, vengono mostrate miniature delle pagine che lo compongono. Puoi aumentare o ridurre le dimensioni delle anteprime cliccando sui bottoni più e meno o usando lo scorrimento della rotellina del mouse in combinazione con il tasto CTRL sulla tastiera. Puoi unire molteplici PDF accodando, al primo aperto, altri file. Premi il bottone più per aprire un nuovo file accodandolo. Puoi eliminare una o più pagine di un PDF, selezionandole con clic e premendo il tasto Cange nella tastiera. Puoi farlo anche con la multiselezione, usando, in combinazione con il clic del mouse, il tasto CTRL per pagine non contigue e maiuscolo per una selezione di pagine attigue. Anche perché puoi sia eliminare le pagine che non vuoi mantenere ed esportare il file risultante, sia selezionare quelle che vuoi estrarre dal PDF aperto e andando nel menu File, Esporta Selezione. Per ruotare una o più pagine in senso orario o anti-orario, fai invece riferimento agli appositi pulsanti che interverranno sulle pagine selezionate. Altra interessante funzione di PDF Shuffler è quella che consente di dividere a metà le pagine di un PDF originale con due pagine per facciata. Detta in altro modo, divide in due metà orizzontali ogni pagina trasformandola in due. Seleziona tutte le pagine con CTRL più A o quelle su cui vuoi intervenire e poi vai nel menu di PDF Shuffler su Modifica Split Pages. PDF Arranger è un altro di quei programmi open source gratuiti che trovi e installi con un click dal gestore applicazioni di Linux Mint o dal software center di Ubuntu. Capita di gestire, archiviare, inviare via email documenti PDF molto pesanti, specie se vi sono molte illustrazioni o scansioni e non puro testo. Nell'installazione di Linux Mint è integrato Ghost Script. Si tratta di utilità per intervenire nei formati di stampa e PDF di Adobe. Ghost Script non è dotato di interfaccia grafica, ma con un semplice copia e incolla di un comando in una finestra di terminale si possono ottenere anche PDF molto compressi da originali di dimensioni esagerate. L'ho testato in Linux Mint dalle versioni 17 fino alla 20. Il primo passo che consiglio di compiere è quello di creare una copia del file PDF attribuendogli un nome file semplice perché dovrai digitarlo. Oppure puoi chiamarlo input.pdf e il mio comando funzionerà immediatamente producendo un altro file, compresso, che si chiamerà output.pdf. Spostati con il file manager Nemo nella cartella in cui hai posizionato la copia del PDF originale. Se invece si trova sul desktop non hai bisogno di aprire Nemo. Con il pulsante destro su uno spazio vuoto nella cartella di Nemo o sul desktop scegli l'opzione Apri nel terminale. Copia e incolla quindi nel terminale questo comando che includo nella descrizione del video. Premi invio. Nella medesima cartella del file originale troverai istantaneamente una versione probabilmente ridotta. Se desideri una più drastica riduzione puoi sostituire il parametro slash ebook con slash screen e ne verrà fuori un file a bassa risoluzione anziché media. Il comando diventa. Il leggerissimo ma funzionale visualizzatore di documenti PDF integrato in Linux Mint, XReader potrebbe non essere sempre l'ideale se hai intenzione di usare Linux Mint per lavoro o esigenze avanzate. Suggerisco di provare anche Ocular. Nel gestore applicazioni puoi trovare di installare in un attimo questo programma altrettanto valido per la lettura e con caratteristiche interessanti aggiuntive. L'interfaccia pulita di Ocular prevede una barra con alcune icone nella parte più sinistra del pannello. Puoi scorrere l'indice dei contenuti di un PDF per saltare alla pagina che desideri navigare attraverso anteprime in miniatura o ancora attraverso le modifiche che tu o altri avete apportato al documento. Infine, tra i segnalibri. La vera forza di Ocular sono le annotazioni e revisioni che puoi apportare ad un PDF. Basta premere sulla tastiera il tasto F6 per attivare il piccolo pannello che consente alternativamente di prendere note in linea o a comparsa, sottolineare, evidenziare, disegnare a mano libera. Sofferma la freccia del mouse per qualche istante sopra ciascuna delle icone per avere un'idea della funzione a cui corrisponde. In definitiva, Ocular è un grande alleato per la lettura e l'annotazione di documenti PDF e potresti decidere di adottarlo come lettore predefinito ogni volta che apri un file di questo tipo. Puoi provvedere in tal senso aprendo applicazioni preferite che trovi nel menu di Linux Mint sotto la voce Preferenze. Xournal non è un lettore di documenti ma consente di realizzarne e soprattutto di modificare ed annotare documenti PDF esistenti. Lo ritengo non meno utile di Ocular con alcuni punti di vantaggio in certi scenari. Xournal è la mia scelta ogni volta che devo compilare documenti in stile modulo perché la funzione di dattilografia che attivi con il click con l'icona T sono evolute non meno di quelle di Ocular. È anche molto semplice caricare una immagine per apporre ad esempio la firma senza dover stampare e scannerizzare nuovamente un documento che magari deve essere solo inviato per posta elettronica. La posizione di immagini è un punto di vantaggio di Xournal rispetto a Ocular che lo consente in via sperimentale ma solo per la visualizzazione con Ocular stesso. Con Xournal puoi anche creare note evidenziare testo effettuare annotazioni a mano libera disegnare forme e spostare con precisione ogni singola annotazione nel documento. Altro vantaggio è quello che puoi salvare il progetto nel formato proprietario se vuoi lavorarci in più tempi o per mantenere uno stato di avanzamento senza toccare il PDF originale. Infatti il salvataggio è operazione differente dall'esportazione che ti consente di ottenere un PDF con le tue modifiche che vengono di fatto sovrapposte al PDF originale. Trovi e installi in un attimo Xournal dal gestore applicazioni di Linux Mint. Coloro che hanno qualche esperienza in campo di illustrazione o tipografico sanno che possono compiere le medesime attività con software differenti. Dubito però che si tratti di un programma che una volta installato occupa un megabyte di spazio su disco. L'essenzialità di Simple Scan per me è tutto ciò che serve per effettuare scansioni in Linux Mint 9 volte su 10. Talvolta mi trovo a gestire scansioni di molte pagine che vorrei ottimizzare singolarmente. In tali casi ricorro a Gscan2PDF che tra le altre tante funzioni mi consente di realizzare un unico documento PDF partendo da più immagini JPEG o PNG. Gscan2PDF è ottimo anche per effettuare scansioni decisamente più evoluto di altri programmi in ambiente Linux con un algoritmo per la pulizia automatica delle scansioni molto evoluto e personalizzabile che rimuove automaticamente macchie e imperfezioni. Anche perché altro suo punto forte è l'integrazione con il sistema di riconoscimento ottico dei caratteri OCR che consente di estrarre testo modificabile da scansioni di documenti o libri. Per utilizzare Gscan2PDF per effettuare OCR è però indispensabile integrare il sistema di riconoscimento Tesseract OCR piuttosto che quello indicato normalmente. Nel prossimo video vedremo più approfonditamente come fare OCR cioè riconoscimento ottico dei caratteri da scansioni di buona qualità e ottenere testo modificabile sempre con strumenti gratuiti ed open source. Intanto è tutto ti ringrazio per l'interesse continua a seguirmi o iscriviti al canale a presto ciao ciao